Ciao! Allora, giorno 2 è la festa della Repubblica, quindi da buona italiana che vive all'estero ho detto devo fare qualche cosa, facciamo un trucco a tema, visto che gli americani sono fissati per il 4 luglio il 4 luglio li vedi uscire con la magliettina americana, con... veramente... gli americani sono un po' esagerati per questo, però ho detto anche noi, facciamo un trucco a tema allora, come vedete ho usato il rosso, il verde, questo è il verde della NYX e il bianco, oltre che la mia pelle, il pallore della mia pelle, ho messo questo fiore quindi, cominciamo subito ho già messo il primer sulla palpebra ho usato il primer dell'Oreal, il Decrease allora, cominciamo subito con il verde verde abbiamo detto che è verde da buona siciliana e questo è della NYX bello veramente ed è il Mermaid Green numero 101 allora, cominciamo a stenderlo in questo modo e lo stendiamo praticamente fino alla piega dall'occhio così è un bellissimo verde, secondo me veramente bello come verde ecco mettiamolo ancora un pochettino ecco ecco così adesso cosa faccio? con le dita potete farlo benissimo sfumarlo un pochettino in questo modo adesso per ciò che riguarda il rosso ho usato il rosso dalla palette Shimmer e ho usato questo rosso qui questo qui molto bello quindi prendiamolo un pochettino come sempre non esageriamo perché questo è sempre un bel colore forte e lo mettiamo qui nella piega dell'occhio mettiamo ancora un po' meglio iniziare con poco e poi ecco e lo concentriamo anche qui nell'angolo esterno in questo modo mettiamolo ancora un pochettino con questo pannello ecco così allora adesso prendiamo il pennello della Sonia Kashuk e lo sfumiamo quando è arrivata all'esterno dell'occhio sfumatelo verso l'interno così sfumato anche qui in modo che non si fai da benissimo il punto di divisione fra i due colori la lasciamo in questo modo così così